Polpette di carote al profumo di menta Un secondo piatto leggero e sfizioso, le polpette di carote al profumo di menta rappresentano un'ottima alternativa ai piatti tradizionali. Una ricetta semplice e veloce, perfetta per una cena tra amici o da servire come antipasto. Perfette anche come finger food per un aperitivo, le polpette di carote al profumo di menta sono un piatto sano, ricco di vitamine e di gusto. Gli ingredienti necessari per preparare le polpette di carote al profumo di menta sono, 1 kg di carote 40 g di pane grattugiato 2 cucchiai di parmigiano grattugiato 2 uova 1 rametto di menta c.b. Di sale, pepe e olio extravergine di oliva inizia pulendo accuratamente le carote e tagliandole a rondelle. Cuoci le carote in una pentola con acqua bollente per circa 10 minuti. Scola le carote e falle raffreddare. In una ciotola mescola le carote con il pane grattugiato, il parmigiano, le uova, la menta tritata, sale, pepe e un filo di olio. Amalgama il tutto e lascia riposare in frigo per mezz'ora. Trascorso questo tempo, prendi un cucchiaio di impasto e forma delle polpette. Passa le polpette nell'uovo sbattuto e poi nel pan grattato. Infine, friggi le polpette in abbondante olio caldo. Le polpette di carote al profumo di menta sono pronte per essere servite. Accompagna il piatto con un contorno di insalata o di verdure. Una ricetta gustosa, sfiziosa e leggera, un ottimo secondo piatto o antipasto.